Pompa di calore, i modelli migliori di Leroy Merlin. Le pompe di calore sono ideali per riscaldare, rinfrescare e produrre acqua calda con efficacia e bassi consumi. Leroy Merlin offre vari modelli di pompe di calore che combinano efficienza energetica e innovazione tecnologica. Modelli ibridi come Ariston Nimbus Pocket 50 permettono controllo remoto e integrazione con smart home devices come Alexa. Il sistema Daikin HPU Hybrid è perfetto per sostituire caldaie a gas, offrendo riscaldamento efficace senza ristrutturazioni.